buonasera buonasera a tutti ben ritrovati con in campo una valle di sport prima puntata del 2021 anno della rinascita della ripartenza e questa sera è con noi abbiamo un grande piacere di avere con noi il nostro ospite pietro vitalini buonasera pietro buonasera a tutti e diciamo subito per chi non lo conoscesse grande discesista azzurro degli anni 90 di quella generazione di fenomeni giusto pietro i fenomeni degli ottimi atleti eravamo preparati c'è stato un bel gruppo di atleti che erano vincenti portavano veramente tanti punteggi per la nazionale azzurra e quindi è stato un bel momento gli anni 90 secondo me non perché c'ero io ma c'erano tanti altri come detto prima atleti che era eravamo al top e tutta la gente tutti gli sportivi si fermavano a vedere le gare un momento particolarissimo erano i tempi di tomba della compagnoni tua con valigiana e l'italjet ricordiamo la discesa libera ad altissimi livelli sicuramente c'è stato un bel momento come detto prima tomba faceva il l'alfiere e noi facevamo un po tutti i bravi soldatini che portavamo grandi grandi risultati le vero l'italjet l'italjet chiaramente tutti quelli di narunga dire per la toner colturi dietro vitalini sì sì c'eravamo un po di c'eravamo tutti a fare grandi podi delle vittorie quindi è stato veramente un bel periodo che per noi era importante ma penso proprio per tutto lo sport dopo la valanga azzurra sicuramente è stato il periodo forse un po più concreto per il mondo dello shiron tutti veramente esaltati è stato un momento particolarissimo ormai purtroppo si parla di vent'anni fa e quindi siamo diventati tutti vecchietti pochi capelli qualche chilo in più ecco nel tuo palmarès pietro cinque podi in coppa del mondo e poi ci sono due vittorie che che c'erano ma non ci sono state insomma come la storia vittorie che non esistono sul sul palmarès più che altro perché effettivamente una era una gara di kitfield dove praticamente è una pista che io amavo tantissimo sono è stata annullata dopo che io ero in testa dopo 36 concorrenti e quindi la fis visto che è scesa la nebbia aspettato un attimo doveva far ripartire a tutti i costi una una seconda gara abbassando la partenza e quindi ha preso la decisione che dato che non erano scesi due terzi dei concorrenti di annullare la gara e poi ne ha mandato in onda un'altra subito dopo rendendola valida e io la sulla seconda totalmente arrabbiato che sono anche andato a prendere un'ultima cartella un'ultima botta sul sull'ultimo salto e quindi mi hanno tolto la vittoria a kitfield la fis poi ha cambiato la regola nell'anno successivo rendendole tutte valide dopo il trentesimo concorrente quindi diciamo che sulla carta non c'è dentro io la vittoria del mondo l'ho vinta e stessa cosa è successo l'anno prima nel 95 non ci sono stati disputati i campionati mondiali di serena nevada proprio perché non c'era non c'era neve e la fissa aveva inserito all'ultimo minuto una gara di coppa del mondo a salbach anche lì grande nevicata condizioni un po particolari io avevo vinto era il 35 34esimo concorrente che erano già scesi e poi annullato tutto perché le condizioni meteo erano peggiorate però anche lì come detto prima dovevano scendere due terzi dei concorrenti e quindi la fissa ha deciso di annullare la gara e nel cuore io l'ho vinta ma sulla carta non c'è pietro veniamo ai giorni nostri pietro vitalini imprenditore giusto nella sua valve ormai sono quasi vent'anni che ho iniziato l'avventura come imprenditore di abbigliamento sportivo il rende chiaramente vitalini sono anni che forniamo in modo particolare tutte le squadre di sci club le scuole sci e poi anche un po nel mondo della dei negozi dove praticamente facciamo di tutto quello che ha bisogno l'atleta per andare a sciare vestiamo più quasi più di 600 club nell'area mondiale perché abbiamo un mercato sia in giappone sia un po negli stati uniti produciamo tutto l'arco alpino pietro guardiamo proprio anche la tua val furba che ha saputo raccogliere la sfida della coppa del mondo sotto data val di sera alzato bandiera bianca mancava la neve e lo staff di omar galli tino pietro giovanna con il supporto di cancro primo aiuto dato loro hanno fatto un bel lavoro perché devo dire che all'ultimo minuto preparare una pista di coppa del mondo è sempre difficile chiaramente la società degli impianti aveva già organizzato dapprima tutta la pista tutto l'innevamento al primo freddo aveva lavorato molto bene innevando preparando anche se non era sicuro di poter aprire per gli sci club o per i turisti quindi aveva giocato d'anticipo si diciamo che i bonseri questa volta ha giocato d'anticipo ma l'aveva già programmato proprio perché voleva aprire tutti i costi e ai primi di dicembre o forse ancora prima proprio per dare possibilità a tutti gli atleti di allenarsi hanno praticamente preso la palla al balzo e sono riuscito a organizzare due eventi due giganti veramente al top è capitata anche lì la neve abbondante proprio sotto gara un bel gruppo di persone di maestri di sci hanno lavorato tantissimo durante le notti per preparare la pista in ogni condizione comunque sono stati molto bravi hanno portato a casa da due grandi eventi un applauso a tutti gli organizzatori anche bormio poi il no a fine anno la discesa libera e quest'anno il super gigante spostato anche lì un giorno proprio per la grande nevicata però sono riusciti veramente a dare il massimo abbiamo visto due gare bellissime delle immagini spettacolari anche tutti gli atleti sono riusciti a dare spettacolo proprio perché la pista era preparata ottimamente ho visto dei passaggi e dei numeri che si che ha fatto un rischio enorme però è stato è stato molto molto bravo a salvarsi e poi tanti altri e poi chiaramente abbiamo visto un grande paris a rientro il super gira un po' titubante d'altronde dopo le prime gare anche lui non si sentiva ancora al top ma soprattutto per la testa perché non riusciva a trovare il giusto feeling mentre in discesa a pochi centesimi dal podio e a pochi centesimi dalla vittoria perché effettivamente aveva stato un non nulla una curva fatta appena meglio ed era già lì e di nuovo a vincere sulla sua la sua pista perché effettivamente sul bormio lui si esalta pietro poi le donne vanno a mille ormai partendo con la bassino sicuramente la gogia poi la brignone ma tutte anche le altre si stanno comportando molto bene sicuramente è un momento magico per la nazionale italiana alla squadra italiana funziona alla grande soprattutto per le donne paris nel mondo dello scine roffer che ha ripreso un attimino anche lui dopo i suoi acciacchi il problema grosso è un po il gigante allo slalom allo slalom arriva vinazzer quindi sta ritornando qualcosa manca un po il gigante però secondo me c'è qualcosa da di nuovo bisogna ancora un po lavorare sul discorso del commetto delle discipline tecniche il problema è un po guardare al futuro non vedo dei grandi rincalzi nel mondo del degli uomini in questo momento mancano un po si abbiamo visto un zazzi di bormio che si si caricava sulla pista stereo la conosce molto bene ha fatto degli ottimi passaggi poi in gara è mancato qualcosa però effettivamente ci vuole un po di esperienza una volta si diceva che a 22 23 anni ori al top o altrimenti potevi stare a casa purtroppo adesso bisogna arrivare almeno 26 di 70 anni si è un po un po troppo diciamo 28 anni ai tempi se non avevi fatto almeno qualche podio potevi stare a casa a fare il maestro di sci mentre mentre adesso bisogna dare ai ragazzi un po più di tempo per crescere senza forzarli proprio perché soprattutto sulla discesa bisogna conoscere le piste ci auguriamo tutti di vivere un anno migliore giusto il vaccino dovrebbe cambiare tutto e quindi io spero che già dal prossimo mese pian pianino le cose miglioreranno per poi arrivare a metto a fine stagione e poi guardare come al futuro futuro dal 2021 2022 per poi per noi che abbiamo le olimpiadi nel 2026 si è molto in là col tempo però dobbiamo prepararci proprio perché bormio non può fare una brutta figura livigno sicuramente avrà anche lui una grande grande opportunità per mostrarsi al al mondo come organizzatore di grandi eventi gli atleti ci sono speriamo bene che portino risultati e sicuramente bisogna investire sugli eventi se si vuole avere turismo e quindi economia per tutti grazie ancora pietro e buon 2021 a tutti grazie a tutti